Non è mai una cosa bella quando ricevi una multa, tantomeno nel giorno del tuo compleanno. È vero, in questo caso l'importo non era particolarmente revato. Era 134 euro se avessi pagato in 5 giorni, 186 invece nei primi 60 giorni. Però era prevista anche la decurtazione di 3 punti dalla patente. Dovevo fare necessariamente ricorso. La prima cosa che fai quando ricevi una multa è bestemmiare. Inutile nascondersi dietro un dito, anche se l'importo è minimo. Però, potendo fare ricorso, perché non calcare questa via? E in questo caso io mi sono accorto che c'era la possibilità di un ricorso. Dopo aver verificato che nel verbale era presente la data di taratura e che questa era avvenuta nell'ultimo anno, tarato in data 10-12-2020, dovevo necessariamente sollevare un'altra eccezione. La Corte Costituzionale ha detto che ogni autovelox deve essere tarato almeno una volta all'anno e la Cassazione ha precisato che l'indicazione del verbale di taratura deve essere riportata necessariamente nella multa spedita all'automobilista. Se questa non viene indicata nel verbale o se questa è stata fatta più di un anno prima, il verbale è legittimo. Ma non era questo il mio caso. Così era necessario trovare un'altra scappatoia. Ad un certo punto il calendario è venuto in mio soccorso. Sulla busta è chiaro, c'è scritto 26 ottobre 2021, ma nel verbale è indicato il sito di poste italiane dove è possibile verificare la data di spedizione della raccomandata. Mi sono collegato sul sito di poste italiane e ho inserito il codice degli atti giudiziari che risultava nella raccomandata. Sorpresa! La raccomandata è stata spedita soltanto il 26 ottobre, mentre io ho commesso l'infrazione il 23 luglio del 2021. Tra il 23 luglio del 2021 e il 26 ottobre del 2021 sono trascorsi più di 90 giorni. L'articolo 201 del Codice della Strada dice che la multa deve essere notificata entro 90 giorni dal momento dell'infrazione e non da quando la polizia ha fatto poi il verbale nei propri uffici. Il termine dei 90 giorni inizia a decorrere da quando hai commesso l'infrazione e viene interrotto nel momento in cui la polizia consegna il plico postale all'ufficio. Quindi non fa fede il momento in cui tu ricevi la raccomandata, ma il momento in cui questa viene spedita. Io ho commesso l'infrazione il 23 luglio, almeno così è riportato sul verbale. Invece, come avete visto sul sito di Poste Italiane, la raccomandata è stata spedita il 26 ottobre. Tra la data di commissione dell'illecito e la data di spedizione della raccomandata sono passati più di 90 giorni. La multa è illegittima. A questo punto potrei fare ricorso al giudice di pace entro 30 giorni o ricorso al prefetto entro 60. Se lo facessi al giudice di pace dovrei presenziare e dovrei pagare il contributo unificato. Se lo facessi invece al prefetto non dovrei pagare nulla, ma le chance di vittoria sarebbero ridotte perché il prefetto è un superiore gerarchico. In questo caso, però, non c'è da interpretare la legge. C'è soltanto da considerare 90 giorni e il prefetto non potrà rigettare il mio ricorso. Questa è la legge.